Celebrata a Berletta la Festa dell'Albero, gli alunni della scuola Baldachini-Manzoni protagonisti di un progetto ambientale, gli alberi narranti, in cui si dà voce a tre alberi. Impegnato in tale iniziativa anche il Corpo Forestale dello Stato, che ha tenuto una conferenza sul valore del nostro patrimonio buschivo. Nel giardino delle scuole poi sono stati piantumati alcuni alberi. La Festa dell'Albero è un momento, è un'occasione importante per poter coniugare il messaggio educativo di salvaguardia e tutela ambientale con quelli che sono i nostri percorsi didattici. Un percorso didattico interdisciplinare che ha visto coinvolte diverse discipline, dalla storia, alla letteratura, alla scienza, alla musica e all'arte. E' un messaggio che deve partire sin da piccini, abbiamo infatti scelto, abbiamo pensato agli alunni delle prime, proprio perché deve iniziare a partire questo messaggio che sarà portato avanti in tutto il nostro percorso. Il progetto ha un titolo particolare, si chiama Gli alberi narranti, perché i rami e le foglie di questi alberi scelti dagli alunni narreranno, hanno narrato anzi, delle storie, delle leggende, dei miti, hanno dato informazioni scientifiche e l'hanno fatto tra i colori e la musica, tra la fantasia e la realtà. Il tempo forestale dello Stato è qui perché quotidianamente siamo impegnati nella tutela di questi alberi, sono i polmoni verdi del nostro pianeta e per tutte le funzioni a cui questi assolvono è importante che noi e tutte le generazioni presenti e future si impegnino a tutelarli dalla pericolosa e incessante avanzata del cemento.